Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Il giovane e ottimo consigliere comunale di Avellino, Alberto Bilotta, punta il dito contro l'amministrazione Foti e chiede conto, in verità con un po' di ritardo, scusate il bisticcio, sui ritardi del cantiere del tunnel. Le difficoltà di oggi, dice il capogruppo dell'Udc, sono figlie di scelte scelerate di ieri, ma ora si dica agli avellinesi come stanno veramente le cose. E' giusto che il consigliere alzi la voce, sarebbe bello però se con la stessa vehemenza chiedesse a chi egli ben sa come andarono effettivamente le cose per quell'altro tunnel dei misteri che è il bar della città ospedaliera. Forza, Bilotta, ce la può fare! Perdoe Perdoe Borro